Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo episodio del Let's Play di Minecraftita Allora, vi faccio vedere subito i miglioramenti che ho portato al mio fantastico laboratorio Qui c'è il nostro fantastico Creepa Creepa? Creepa? Madonna Creeper Quanto ho faticato per prenderti, tu non ti immagini, fammi entrare Bellino lui, carino Sì, mi piace molto eh È un Creeper easy peasy lemon squeezy Qua dentro, è veramente figo Qua sotto cosa ho fatto? Boom! Ho provveduto a togliere una porta perché, madonna Se mi apriva quella porta, il villico erano veramente dolori Questa, vabbè, questa è la stanza pozioni Mi avete consigliato di mettere i prone stand Ho messo questi E oggi, sfruttando questi cosi qua Ci andiamo a divertire un po' Esatto, perché ci andiamo a divertire? Ve lo faccio vedere subito Allora Scaviamo, addonna Qui ci sono i cosi, vabbè Uno Due Tre E quattro Sì, mettiamo questi E ci andiamo a mettere i nostri calderoni Perché questo? Perché se io entro nel calderone Guardate eh Ok Mi abbasso di uno Se riesco a farvelo vedere Aspettate Insomma, sono più basso di uno Di mezzo E se mi metto uno slab qua sopra E non posso più muovermi Non posso uscirne Ed è fantastico Perché adesso noi metteremo l'acqua qua Ci metteremo insieme Ci metteremo degli zombie Che saranno attratti dal villico Ma non potranno alzarsi E quindi ci sarà da ridere Sa veramente divertente Vedere questi zombie intrappolati Che tentano di uscire E andare a uccidere il villico In tutti i casi Qui dobbiamo fare una cosa del genere Del tipo Chiudere qua E mettere questi qui Perché se mi vanno a sfondare le porte E mi fanno uscire il creeper Io diventerei abbastanza Isterico Ecco Mettiamola così Bellino lui Datemi un nome anche per l'asino ragazzi Sì, sì Sarebbe il caso Che io dia un nome anche al mio fantastico asinello Adesso fatemi tornare sopra In fretta e furia Ci andiamo a catturare qualche zombie Andiamo a prendere anche qualche secchio d'acqua Che attualmente non ne dispongo Poi ci andiamo a prendere Un Qualche Ah, aspettate Video settings Off Otto chunk Off Particelle Minima Minime Perfetto Perché Col fatto di cambiare versione Mi resetta Il tutto Cioè mi resetta tutte le impostazioni Minecraft E quindi poi laggo a bestia E insomma Ma è un po' mi cazzo E poi Non posso laggare I'm done Allora 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 Andiamoci a prendere qua Un paio di secchi Ne ho uno qua Uno qua Ottimo Ce li andiamo a riempire Anzi facciamo una cosa Ci riempiamo quattro Almeno Devo starmi a creare la fonte d'acqua infinita Anche se ne ho una Vabbè Va bene Prendiamo quattro Via E poi tanto Mi occupano soltanto poco spazio Tac 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 Perfetto E ce ne andiamo Intanto a riempire questi Ci prendiamo degli slab Che slab potrei usare Ovviamente Quarzo Eccoli qua Eh sì Per forza Che slab usi È normale che uso il quarzo Ah mi servono anche delle name tag Quindi mi servono Eh Devo andarmi a farmare un po' di smeraldi Ma quello lo faccio sicuramente off camera Perché penso che non sia proprio così Bello da vedere Vedere farmare smeraldi Insomma ecco Immagino Immagino Scendiamo Adesso ci andiamo subito a Qui mettiamo Eh L'uovo che ho preso Almeno Magari Rispona qualcosa E Ci può essere utile Continuiamo a scendere E che continuiamo a scendere Mi manca un cosciotto E non ho lo sprint al massimo Mangiamo Ottimo E ci andiamo a riempire I nostri Fantastici calderoni Perfetto Mi fa entrare Uno Due Done Vabbè Mettiamo qua Facciamo così Tre Questi li leviamo Mettiamo così a posto E eccoli qua Quattro Voglio metterci l'acqua Non so per quale motivo Bene Però Ci sta bene a mio parere L'acqua E quindi Così Ottimo Adesso mi vado a farmare Vedete Adesso lo faccio vedere bene Così Così E io non posso più uscire Sono apparentemente condannato A restare qua E vedremo Quattro zombie Che si litigano Il posto Fantastico Veramente epico Anzi Fammi fare una cosa No Qui è troppo basso Fammi preparare Già questi Perché almeno appena Lo zombie cade Lo metto là Quindi Mi vado a prendere Le name tag E ci arriviamo Tra pochissimo Ok è passato Diverso tempo Dall'ultima clip E io mi sto Ecco mi sono portato Appresso due Fantastici zombie Che Diciamo Non mi fanno male Perché io con questo Equivaggiamento A parte che devo riparare Voglia Ok Adesso Questa la possiamo anche rompere Eeeh Maleducati Adesso Io vi Madonna Dove è un casino Tenerseli a bada Tanca lui per favore Oh mi ha rotto il cazzo Forza Entrate là sotto Per favore Dai forza Zitto Madonna Eeeh Mi tocca ucciderlo uno Oppure faccio una cosa del genere Tipo uno che mi ha tancato Ecco vieni qua Ecco ciao Bene E adesso Ce li mettiamo dentro Uno per volta Sperando che riesca io A farli scendere dentro Madonna Dai forza su Che non è difficile Vabbè Se vuoi stare qui Perfetto Perché loro lo tancano Lo vedo E cioè Si vede che lo tancano Lo zoom E il villager Però non riesco Madonna A farla andare dentro No Devi tancare il villager Boia vacca E non ci scendono Non c'è niente da fare Tanca il villager Per favore Fai mangiare Attacca il villager Dai Forza Madonna Mi fa male Se mori Mi cazzo Boia Anzi Fatti colpire con lo slab Ma no Proprio non ti piace Il villager Ma guarda lui Guarda il villager No Non c'è verso Penso ci liticherò Parecchiuccio Poi mi E' morto Madonna Mi tocca liberare Quell'altro No Non ci credo Ma guardate voi Io non lo so Madonna Due ore Due ore Ci ho messo Fammi tornare di sopra Va bene Adesso Ci lavorerò Molto Off camera E me li preparerò Non so Quanto possa essere difficile Farli entrare là dentro Fammi Teletrasportare qua dentro Scusa villager Vetro Fammi ripiazzare il vetro Fammi riuscire Dai Levati Bravissimo E adesso Vedo Di fare il possibile Fammi togliere questi due E ci troviamo Tra pochissimo Appena sono riuscito A mettere qualche villager A tra poco Ecco dopo tantissimi sforzi Che ho Preso un zombie villager E mi sono detto Va bene ma adesso ci metti villager E me li faccio diventare Tutti i zombie villager Però ci vorrebbe un po' troppo Forse a mio parere Però è fattibile In tutti i casi Adesso assegno Una name tag A questo zombie Tac Fantastico Adesso mi farò Tutti e quattro i zombie villager Provvederò a mettere Quattro villager Porterò uno zombie qui Che li massacrerà di botte E me li farò diventare Tutti Villager Insomma Zombie villager E lui manco mi attacca Perché poi tanka il villager Ed è un sistema Veramente OP Questo quindi Io adesso Porto giù i villager Ci mettiamo lo zombie E ci rivediamo Tra pochissimo Bene Mentre questo zombie Mi sta veramente facendo male Guardate Va bene Penso possa bastare Forza Vai a massacrare i villager Inizia il massacro Adesso non devi Tankare me però Devi tankare loro Ma guarda Cioè Tanka meno Ah appunto Adesso Gli menerà Sicuramente Perché li prende Dai non è possibile Che tu Non ce la faccia Oh bene Adesso Ci godiamo In prima In primo piano La trasformazione Di un villager A zombie Non lo so Cosa vogliono fare Questi zombie Dai uno zombie Guarda Quando iniziate a giocare Se uno zombie Attaccava Un villager Lo trasformava Minimo con due colpi In uno zombie E che è sta cosa Che adesso Tu ci metti Quanto Tanti Ma dai Forza Manco lo attacchi Io ragazzi Questi zombie Io non li riconosco più Questi mob Io non No non ci siamo Non ci siamo Ragazzi Non ci siamo Per niente Voglia vacca Voglia Voglia vacca Proprio non ci siamo Ma che zombie sei Ma che Ma dai Ma che zombie sei Forza Voglia Dai No no Non ci siamo Non ci siamo E non me li attacca Non me li attacca Comunque noi li lasceremo qui Creepa 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 Ci scherzo troppo Con questo creeper Comunque noi li lasceremo Fa appare la grande E fa appare Più o meno fa appare Perché Cioè mi li deve trasformare in zombie E spero lo faccia al più presto Perché poi io devo tornare E metterci le name tag Se no mi Despownano Devo stare anche in quest'area Perché se no Mi despownano lo stesso Adesso 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 Cosa ci andiamo a fare Intanto che Loro lavorano Che questo zombie Tenta di lavorare Tenta di uccidere Anzi fammi fare una cosa Vabbè Tanto di name tag Ne ho altre Zombie Perfetto Almeno non mi despowna E mi uccide i villager Buono Ottimo Ottimo direi Ci torniamo su Perfetto E ci andiamo a prendere Una canna da pesca Voglio fare un po' di Di pesca sportiva Ottimo Non è noto nulla Allora Il bello è che Io là sotto Nei sotterranei Vado a circa 100 fps Ok Sì un centinaio Inizio a registrare Mi calano a bestia Poi Salgo in superficie E mi continuano A calare a bestia Quindi è un casino Bordè Madonna ragazzi Guarda Io non lo so Comunque Questo video Molto probabilmente Non lo state Lo state vedendo Quando io sono A Milano E già Perché sto fuori Sto pre-registrando Un casino di episodi Adesso E infatti Se avete scritto Magari qualche commento Nei vecchi video Non l'ho Minimamente letto Perché Ovviamente Sono fuori Cioè Ho registrato I video precedenti Poi magari qualche commento Lo leggerò Non so se rispondi Volevo andare a prendere Una canna pesca Sarà un casino Magari Rispondervi Però tanto ho l'app Quella per iphone Quindi non ci dovrebbero Essere problemi Una sola cordicella Una 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 Io non ho canna da pesca Non c'è verso E la seconda volta Che batto le mani Forse si sentirà qualcosa Di terribile nel video E niente Volevo una canna da pesca Adesso mi devo andare A cercare un ragno Ma è pure Giorno Appena dormito E vedo che c'è un ragno Incredibile La fortuna Per una volta È dalla nostra parte Muori male Poi con looting Nemmeno a chiederlo Che ci dà Qualche cordicella Cioè davvero Se con looting Non ce l'avrebbe dato Non lo so Voglio Adesso ci andiamo a posare Qualche drop Tipo Questo E Due Questo quindi Ci andiamo a posare La clay Che ci avanza Bene Che altro ci andiamo a posare Net Ci andiamo a prendere Qualche stick E ci facciamo La nostra fantastica Canna da pesca Perché ne voglio A parte portare Una sempre dietro Perché C'è Gas avere una canna da pesca Nell'inventario Sempre Ok Facciamo questo Così Come si fa una canna da pesca Così Sì Esatto Possiamo riporre Questo Dovremmo andarci a prendere Degli altri Smeraldi Per prenderci Un'altra Naintag E fare Tante altre cose Perché ovviamente Un villager L'abbiamo E una naintag L'abbiamo sprecata Su uno zombie Però non fa niente Adesso scendiamo Sperando che non mi sia Despawnato E dove voglio andare a pescare Ve lo faccio vedere subito È un luogo un po' insolito Per andare a pescare Però Non so Magari Cioè a parte uno potrebbe pescare Anche qua Ci hanno fatto un laghetto Fantastico Vediamo se a bocca qualcosa Vediamo Se c'è qualche pesce In questo Rigagnolo d'acqua Che ho creato io Non credo Ma poi penso di sì Perché non dipende Dalla Lunghezza Cioè Dalla Lampiezza Dalla profondità Forse sì Non lo so Questo poi è artificiale L'ho creato io Vediamo Pare di no Pare di no Pare di no Che non ci sia nulla Però In un posto In un altro posto Penso pescherò sicuramente Qualcosa Adesso Andiamo un attimo A vedere Come si stanno Mettendo le cose giù Con i vari zombie Tac Niente Non c'è verso Non c'è verso C'è verso me C'è verso me C'è verso me Sì sì So come fare Ma perché Non lo tanka Forse Cioè nel senso Se io faccio una cosa Del genere Dovresti andare meglio Esatto Sì Bingo Devi tankare lui Non me Devi tankare lui Boia Boia Ma perché Zombie Eccolo qua Devi tankare lui Boia E resta così Ah ho il normal È vero Non romperà la La porta Giusto Non ci pensavo Bene Lo sta uccidendo un altro Dai 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 Dimmi che l'hai fatto Dimmi che l'hai fatto E Ale Dammi anche la name tag Zombie Sì L'ho messo Perfetto Tu non mi servi più Oh E che Sta mafia Boia Eh Ok Ecco i miei fantastici zombie Allora Tu hai la name tag Tu hai la name tag Sai tu che non hai la name tag Prendi qualcosa Dai forza Prendi qualcosa Sulle mani Vabbè qualcosa prenderà di tutta questa cobblestone Questa cobblestone Questa cobblestone la prenderai Dai su forza Comunque andiamoci a pescare un po' E poi concludo il video Perché Si sta facendo tardi E sto registrando più video possibile Per non lasciarvi ovviamente senza video Alterneranno video di Pravian The Last Ship E Minecraft Ho ho Che spettacolo Ma poi muoiono Non lo so Vediamo No non mi muoiono nemmeno Quindi posso fare Pesca Quanto voglio E' pesca sportiva questa Non uccido le mie Ecco adesso Diciamo La tentativa è quella di portarlo Su uno Non so se ci riuscirò In breve tempo Hop Madonna Perché poi sono pochi No no Pare Non ci riesca Ma è un casino Adesso Da pro Da pro Ottimo No invece ci sono abbastanza Perché poi più in alto vai E Adesso vi faccio vedere Che Vabbè ma guarda Queste canne da pesca Sono veramente OP Mamma mia Pro Enderpearler Best Enderpearler EU 2014 14 Non so se si può fare Si 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 L'ho portato fino in cima Se 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 Ok basta Sono un fenomeno Comunque Per questo video Penso possa essere tutto Intanto che si blocca L'altro computer Io vi ringrazio tantissimo Per la visione Vi ricordo di lasciare un mi piace Se il video vi è piaciuto Di iscrivervi al canale Se non avete già fatto Di condividere Il video su facebook Perché è il metodo migliore Per supportarmi Per farmi conoscere A nuove persone Stiamo Stiamo aumentando Gli iscritti Notevolmente Sono veramente 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 Contento Di come stia andando Il mio canale youtube E questo è solo grazie a voi Comunque basta con Le Con i sentimentalismi Io vi ringrazio nuovamente Per la visione Mi raccomando Lasciate mi piace Non lo so Non ho sentito più il nonno Per fare video Ma probabilmente Ne arriveranno altri Io vi aspetto al prossimo episodio Come al solito Ciò la domani Ciao a tutti ragazzi